Buongiorno a tutti, abbiamo pensato di pubblicare una serie di video sul pirografo e la pirografia. Questo è il primo nel quale vedrete una carrellata di piccoli esempi realizzati con un pirografo semplice ed economico, ma comunque di buona qualità made in Germany. Qui si possono vedere vari tipi di legno, anche legno molto duro, tipo rovere e olivo, oppure legno grezzo che va semplicemente lisciato. Qui vediamo un forchettone da cucina che è stato decorato, delle tavolette di legno dolce che è ovviamente più comodo da lavorare. Poi vi faremo vedere come si fa. Abbiamo anche preparato un kit per la pirografia, disegni di ogni tipo, materiali, attrezzature, vari tipi di punte, e questi sono solo alcuni semplici esempi di cose che si possono realizzare e si possono fare anche in casa. Non mancate il prossimo appuntamento perché siamo pronti per partire.